Faccio un po' di nomi grossi, Tahir, tipo che a chi avrò tutti i video Guarda, quello con cui si scopa solitamente è ultimo Ma ultimo, davvero? Ultimo, tipo una decina gliene avrò fatti Quando stavo a Uniro? Sì Ci ha scopato, quindi Sì Salute Ciao amici, bentornati a We Catch You Oggi parliamo di videomaking Prima di presentarvi il nostro ospite però come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina qui su YouTube ma anche su Spotify per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi contenuti A tal proposito seguiteci anche su tutti i vari social che il buon Slack adesso vi fa comparire qui in sovraimpressione Come vi dicevo, oggi parliamo di videomaking e lo facciamo con l'unico e il solo Tahir Hussain Videomaker di tanti rapper di successo ma anche di Kashmir Podcast Non vi voglio spoilerare altro, quindi buona visione e bentornati a We Catch You Ciao Tahir Ciao ragazzi Come stai? Subito col gin tonic Ti abbiamo fatto tornare Già un gin tonic di troppo Già uno di troppo Hai provato a levarli invece niente sei venuto qua da noi che ci ubriachiamo a tutte le puntate Io così, meglio così Dai, andiamo subito al sodo Raccontaci un po' di te Cosa fai? Quanti anni hai? Come hai iniziato? Cosa hai studiato? Come sei partito? Ah, studiato? Niente Studiato? Sì, nel vero senso della parola scuola Niente Tutta autodidatta Io ho adesso 23 anni Mi faccio 24 a gennaio E faccio il videomaker Il regista Il filmmaker Non ho mai capito la differenza Quello che capita Di base Però questo Faccio principalmente videoclip e format web o spot web Ma è capitato di lavorare anche in televisione e cose così E come ti ci sei ritrovato? Cioè per passione hai cominciato a fare da autodidatta? Da sempre Proprio mi ricordo a otto anni Avevo la mia telecamerina Filmavo cose a caso Senza poi mai arrivare a editarle O a montarle o pubblicarle Poi tipo a 11 anni Tramite dei montage di Call of Duty Dei montaggi di Call of Duty Mi sono avvicinato all'editing A 13 Eri te che giocavi? Sì, sì Ero io che giocavo A 13 poi Tra vari amici che iniziavano a fare musica, a rappare Sapevano che io comunque facevo video, cose Senza averne poi mai fatto uno vero È nato il primo video con l'amico che dice Oh io c'ho una canzone, fammi il video E da là poi E da là piano piano E come hai trovato poi invece i lavori Insomma un po' più Tramite questi video? Cioè quindi ti vedevano e magari ti contattavano? Allora sì Prima Diciamo che prima era molto diverso Perché stiamo parlando di 10 anni fa E prima era tutto passaparola Quindi Ti conoscevano Perché c'era magari tutta la cerchia A 13-14 anni 13-14 anni Sì 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 Io ho già Primo video a 13 anni Primo videoclip Quindi poi da là Anch'io faccio musica Ma chi ti ha fatto il video? Me l'ha fatto lui Di qua di là A 16 anni poi Sono entrato a lavorare In un'etichetta discografica Dopo che già facevo Ho macinato parecchi video E poi da là è sempre stato Un Cose di conoscenza Mi piace come lavori Mi lavora per me Di base Quindi inizi subito con i rapper Diciamo Cioè con la musica Sì 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 Primo approccio con la musica E era soltanto editing dei video Oppure proprio regia? No 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 Era regia Girare Scrivere Montare Tutto E quando si tratta di regia Cioè tu scegli anche proprio Come si svolge il video Le cose che si fanno all'interno del video? Allora dipende Dipende sempre perché comunque La vera differenza Tra l'essere un tarantino Che sei quella persona Puoi fare come ti pare E l'essere un Un videomaker normale È che di base C'hai un cliente Quindi ti può capitare Quello che ti dice Guarda non ho la minima idea Scrivi tu qualcosa No questa è la mia idea Voglio fare questo Poi quelli con cui mi trovo meglio a lavorare Sono quelli che dicono Io vorrei fare questa cosa Che ne pensi? Scriviamola insieme Capiamo un attimo Si lavora a quattro mani In realtà a volte molte di più Perché magari c'è l'artista C'è l'etichetta dietro Che può essere una major Come un'etichetta indipendente Poi magari anche il producer A volte si mette in mezzo C'è chi ha il direttore creativo Però penso che più aumentano le voci Che mettono bocca Più diventa complicato Sì Dipende poi Dipende molto però sì Faccio un po' di nomi grossi da IR Tipo Che a chi avrò tutti i video Guarda Quello con cui si scopa Solitamente è ultimo Ma ultimo Tipo una decina Io ne avrò fatti Quando stavo a Uniro Sì Ah massimo Ci ha scopato quindi Sia con Ultimo Che con Con i fan Con i fan di Ultimo E pure Shiva no? Sì pure Shiva Poi tramite Risivi Che diciamo è Il mio gioiegliere Però il gioiegliere Un po' di tutti i rapper Ok Abbiamo Abbiamo lavorato Abbiamo fatto video con Sfera Con Plaza Ammazza Quali hai fatto con loro? Abbiamo sempre fatto Delle cose inerente Ai loro gioielli Quindi magari Sfera si faceva La Croce Facciamo un documentario Su tutta la realizzazione Della Croce Ammazza E dove stanno? Su Youtube? Sì stanno su Youtube Sul canale appunto di Risivi O Sul profilo Instagram loro Ammazza Fighissimo E invece com'è Lavorare a quei rapper? Cioè nel senso Sono Sono professionali Per esempio Perché una cosa Che mi viene in mente È che magari invece Si presentano sul set Che ne so Tutti sballati Come dicevamo prima Poi magari Non ti fanno fare niente Da testa tua Ma allora in realtà È un discorso Un po' generale Che dipende Poi per tutti Cioè dipende Vabbè Dipende Nel senso Mi so trovato Il rapper Che veramente viene Non riesce a stare in piedi Mi so trovato Invece anche Quello Che già Dalla preproduzione Lo scrive Ha delle idee mega fighe Si trova bene Con te Poi il lavoro Fila tutto liscio Ok Il problema Lo biffiamo Lo biffiamo Troppi me ne dovrei fare Dico la verità Biffiamolo Per favore Giuro Giuro È stato complicato Lavorare Lo sai che Te lo stavo per dire Con lui è stato Ero sicuro Che ho visto un video Che andava Vabbè no Perché sennò Poi si capisce Però Ero sicuro Che era lui Ma con molte persone Perché poi in realtà Più che lo sballo Che arriva Solitamente A un certo punto Del set Cioè tu hai Iniziò a girare A metà set Si calano qualcosa Droghe che veramente Neanche ho mai visto Così E te non sai più Come porta a termine No No è un macello Grazie a Dio Spesso ci sono Delle figure di recupero Quindi magari c'è Se sono due artisti Uno dei due Gli fa No non te la piaga Questa O se no Il manager Le cose Però è successo È successo Come è successo Anche scatti di ira Gente che mi annulla Le riprese Gente che gli dico Oh ci siamo Quindi come abbiamo detto Da un mese 50 persone Sì sì tutto a posto Il giorno prima di girare Ah no non c'è nessuno La casa non c'è Come Madonna Ma oltre a questo Lì come Come la gestisci tu In quel caso La butto veramente In caciara Cioè O lo mando a fanculo O se no Cerco di Di Vabbè Cosa hai E si gira Quello che c'ha E se è una cosa Veramente tremenda Solitamente Non ci metto il nome Ok E lo metto E lo metto poi Su La lista nera Infatti te stava Fasta domanda Cioè poi Ti fai una brutta nomea Invece no Poi fa benissimo Che ciao Sì sì Ma io lo dico Però vedi guarda No è mio Non esce da qua Perché Per colpa tua Il video non è venuto Come volevo io Anche se poi Non viene mai Come voglio io Di base Ma a proposito Questa è una cosa Che mi viene in mente Invece Cazzate che hai fatto te Cioè ti è capitato Tipo che ti hai riscordato Un cavo Una cosa L'audio E ti sei dovuto Arrangiare Allora la più grossa Forse cazzata Che ho fatto È stata quando Avevo fatto Stavo girando Una serie tv Per Forse non dovevo dirlo Vabbè Bippiamo pure quello Bippiamo pure questo Tanto lo devi fare Come operatore Come operatore Però io in teoria Devo essere assistente operatore Mi hanno messo a fare Sia l'assistente operatore Che il secondo operatore Quindi io dovevo Assistere L'operatore principale E poi dovevo Io montare Tutta la camera mia E girare E l'ho formattato Una schedina Che non andava formattata Cioè che vuol dire? Cioè Formattare vuol dire Eliminare tutto quello Che c'è da quella scheda Per rigirare Cioè eliminato del girato Solitamente Si fa che tu Al cambio scheda Prendi Levi la scheda Poi è partita Prendi Levi la scheda Ci metti un nastro Col codice E tutto quanto Metti la scheda nuova E la formatti Ok Non avevo fatto Tutti i passaggi di mezzo Quindi ero convinto Di aver cambiato scheda Non l'avevo fatta Avevo formattato Tutta la mattina Quello che avevamo Girato con la seconda camera Porca droga E poi è servito E poi è servito Quel materiale Grazie a Dio L'ha mandata in cacciara Il direttore della fotografia Mio Il caporeparto mio Perché ti hai confessato Sì sì Io l'ho detto subito Ho detto Che cazzo Non lavoro più Mai più Una cosa fondamentale È dire sempre le cose Sempre Io mi sono vissuto Tanti momenti Con degli assistenti Tra cui Quello che sta qua Magari Che non era un assistente Fino a poco fa Però lui si è auto Lui si è È direttore di produzione Mio Se lui si è È vero Con umiltà Diciamo Mi ha detto Assistente Che magari Doveva organizzare Delle scene E non mi ha detto Guarda Non c'è nulla Di organizzare Mi ha fatto arrivare Sul set Con nulla Poi Quindi Sicuramente Confessare tutto Alle giuste persone Perché se là Fossi andato Tipo Dalla direttrice Di produzione Gli avessi detto Guarda Ho formatato Ho girato Mi facciamo Probabilmente Pagare Una cifra di soldi Cose brutte Non ci voglio manco pensare Però se capisci Che il tuo capo Diciamo È una persona A cui ti puoi relazionare Confessa subito Comunque nel cinema Televisione Ci si deve sempre Apportare in base Col capo reparto Quindi stai Reparto fotografia Parli con il direttore Della fotografia Ok Quelli della produzione Lasci fuori per esempio E invece Quando si realizza Un videoclip Ciotto Cioè di un rapper Magari ecco sciva Piuttosto che un altro Forte No Diciamo Che troupe ci sta Che lavora Al videoclip Oltre a te Ma guarda Dipende Perché non è mai Una cosa di pesa Dal rapper grosso Ok In realtà Se vedi Ci stanno anche Rapper del calibro Di sfera Che ancora Fanno i video Che scendono Non ti dico Sotto casa Però vanno Nel posto X Stanno là Due ore E fanno il video Lo devono fare un po' Ghetto style Così Sì Sono rimasto Del palazzo Grazie a Dio C'è rimasta Questa cosa Che nel pop Non è minimamente così Invece nel rap Anche se l'artista È enorme Se il video Deve essere Un video Comunque stritta Si scende E basta Quando i video Sono un po' Più grossi Ci sto io Ci sta poi Il reparto fotografia Che è quello Su cui io punto A investire di più Del budget L'artista Fino a una certa Perché l'artista Dice a me Non me ne frega Un cazzo Della camera Delle luci O cui girate Io voglio Le puttane Magari Però ci sta Il reparto fotografia Che sono Solitamente Almeno Direttore della fotografia Operatore Assistente operatore Assistente del Direttore della fotografia Poi magari Io ho Il mio aiutore Regia E il mio assistente Alla regia Poi in base al video C'è il reparto Scenografia Quindi c'è la scenografa Con l'assistente suo Dipende sempre Dalle circostanze C'è il direttore Produzione Con i Con i runner O i runner Suoi Però dipende Quanto costa Fa un video del genere Perché Io penso Ormai I video Io se penso Alle ultime 30 canzoni Che sono uscite Ho detto Cazzo Sta uscita Canzone Ho mai visto il video Me la voglio sentire Cioè quasi mai Mi vado a vedere il video Ma veramente quasi mai Allora Sì Quanto costa E se poi Ne vale la pena De fare un video Lo sai cos'è Uno di quelli Che va solo su youtube Invece se li vede tutti Bravo Perché non c'hai Spotify premium Esatto Manco 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 Il problema è che Mi piace comunque Vederli video Anche perché Insomma Vedi il lavoro Che fa Il buon tahiro Lo sai Chi sia Vuoi o non vuoi Il video Anche se tu te l'ascolti Solo su Spotify Se hai un'immagine In testa Quando te l'ascolti Ti viene da Il video O dalle Cover Che quest'artista Ha fatto No no Ma poi tante volte Io poi Quando la riascolto Penso proprio Se il video è fatto bene Poi ti rimane Ah sì C'è un video pazzesco Mi pare De lunedì di Salmo Con Borghi Eh beh Quello è clamoroso Borghi pure quello Con i giornalisti Con i giornalisti Ma secondo me Dipende anche dal Quanto tu sai Nel senso Vuoi comprendere Perché comunque Il video ti dà Del materiale in più All'idea Per esempio In questo contesto Stiamo parlando di musica No Cioè se io voglio capire Dietro cosa ci sta Dietro quell'artista Dietro quel messaggio Il video ti aiuta A completare il messaggio Che magari un artista Vuole dare no Sì ma ti dà Dipende dal video Se riesci a fare il video giusto Ti dà una spinta Molto grande Ad esempio Mi viene in mente L'ultimo di rondo Quello Tutte auto blu Blu elettrico Tutti i vestiti blu A fare il panico Il pezzo Senza Quel video Ti arriva Molto molto di meno Cioè quel video Che ha fatto Diventa iconica l'immagine Super scalpore Snoop Dog Mi ricordo L'ha ripostato Nelle storie Dicendo ma che ci stanno I creep in Italia Diventa proprio poi Il lavoro cinematografico Diciamo proprio Di accompagno Al testo Sì è diventato Purtroppo Secondo me Ora è diventato Molto più Che un lavoro Cinematografico Un lavoro di comunicazione Quindi è fare La cosa che fa più scalpore Che attiri più il click Ok Comunque sempre I video musicali Non si Usano quelle tecniche Ad esempio Una scena Movimentata Camera Spalla I video musicali Sono più standard Ma oddio dipende Negli ultimi anni Ci siamo molto avvicinati All'estetica americana Secondo me Soprattutto tramite Determinati Videomaker E quindi Io vedo Un abuso Assurdo Di WFX Poi c'è chi lo fa Veramente bene Chi li fa A cazzo di gamba WFX Dovevo spiegare WFX Effetti speciali Effetti speciali Quindi ricreare Magari cose Di CGI Sì Esatto Proprio CGI Proprio è quella più complicata Da fare Ok C'è un abuso di questo Se non dire Ultimamente Oddio Non è che c'è un abuso E che devi saperlo usare Esatto Non è giustificato Spesso Tante volte è veramente Buttata così A caso Ok Intanto diciamo che queste cose A cashmere Non te le fanno dire No Questo diciamo Io sono meno una libertà Al buon Tahir Di dire queste cose Assolutamente Sono ipercensurato Ti vengono tarpate le ali Diciamolo Ipercensurato Su cashmere Sì Comunque magari Avere questa libertà E usare Questi Questi modi Di usare la camera da presa Possono essere utili Se usati bene Invece Ultimamente Come dici te Si usano magari Tanto per usarli Sì Esatto Di base Veramente Ho detto Scusate ragazzi Sto dicendo 20.000 volte Di base No ma di Perché Ma non ti preoccupare Lui c'ha l'invece Facile Io vorrei fare Dalla prossima puntata Che ogni volta Dico invece C'è uno shot Perché se no Non mi fermo più Io avrei Io avrei già Dovuto Dovuto farmene 7-8 Questo Di base Però No sì È che Tante volte Si prendono cose Proprio a caso Tanto per prenderle Poi dipende Dai budget Dei video Cioè ci sta pure Che dici C'ho 70.000 euro Per fare sto videoclip Più tutto Poi vedo Cosa usare Infatti una cosa Su cui io sono Un grande cacacazzi A parte tutto Il resto Però su quello Sono Nello specifico Al montaggio Io non ho mai Preso Un montatore esterno Che è un mio limite Perché magari Vuol dire ti devi Accollare una marea Di lavoro Mi devo accollare Molto più lavoro Ma è perché Voglio che Più sordi La cosa è che So più sordi Sì Sicuramente Più sordi E quello lo fai Dai Però è Proprio una fissa Mentale mia Perché magari Mi sono trovato A volte male Vorrei dire A volte bene Però non mi sono mai Trovato veramente bene Come quando Montoiro Perché poi spesso Chi fa regia come te C'ha l'idea Ben in testa Sì E poi è difficile Trovarsi con altre Cioè Sì Da parte si fa squadra Sei miracolato Perché comunque stai In un set Sì però O sei miracolato E trovi Quella persona Che non solo Te lo fa come lo volevi te Ma te lo monta Ancora meglio O se no Solitamente te lo montano Veramente a caso Anche perché Un problema Poi di tanti Giovani Videomaker Cose così È che non sanno montare A proposito di questo Cosa usi tu? Io Premiere E After Effects Chiedo scusa A tutti gli stronzi Che usano Da Vinci Che adesso Mi staranno Tu che usi E vai Però il problema Di Da Vinci È che Sei limitato Certo Cioè se io voglio Dar fuoco a una persona Quando parlai appunto Con una persona Che usava Da Vinci Mi disse Eh no Gli devi dar fuoco davvero Non si può fare Invece Su After Effects Si può fare Un VFX Un effetto speciale Se possono fare più cose Certo no Se devi fare delle cose Il buon Slack Magari per montare Il podcast Da Vinci Va benissimo Però quando vai a Vai a lavorare Cose del genere Premiere È il migliore Sì ma è perché È più versatile Cioè io ci faccio Anche Grafiche animate Ci faccio Tutto oramai Con Premiere Quando riesci a usare Photoshop Premiere After Effects Stai da paura Invece quanto ci metti A montare un video? Guarda dipende Cioè mi so fatto Dipende Chiaramente Dalle richieste Dalle richieste Magari un videoclip Che io non reputo Eccelso Anche in due ore Te lo monto Ah vabbè Ok Su un videoclip Magari Dove ci vuole Più attenzione cose Ci metto Quei tre giorni Ma anche perché Magari lo finisco Il secondo giorno Però lo devi prendere Un giorno di pausa E rivederlo A mente fresca E tranquillo E dire ok Forse questa cosa È meglio così Questa cosa è meglio così Quindi quanti lavori Riesci a prendere Contemporanea Diciamo Eh oddio Purtroppo Ne prendo veramente tanti Cioè In questa fase Della mia vita Già un po' di meno Però c'è stata Tipo Penso a Tre Quattro anni fa Veramente facevo anche Quattro Cinque videoclip A settimana E c'era tipo Un momento in cui Non riuscivi a stare Dietro alle scadenze Allora Grazie a Dio no Non c'è mai stato Ed è una cosa Che frega molti Però c'è C'è stato Quel periodo Dove ho dovuto Abbassare la qualità Per fare Il numero Ed è una cosa Che poi Una volta Resto mi conto Appunto Di sto fatto Ho detto Non mi va Non lo rifaresti Per esempio Non lo rifarei Non lo rifarei È l'unico Diciamo errore Che ho fatto E che non rifarei Anche perché Sì De base Gli errori Poi sui set Le cose Se vanno fatti Per non farli più Ma Però questa Era proprio Una mentalità Sbagliata Secondo me Ti posso chiedere una cosa Vai Tu hai detto Già un paio di volte 3-4 Di base Tipo 3-4 anni fa Facevo Tante cose Oppure I rapper più giovani Così Però tu Hai detto Che c'hai quanti 23 anni 23 anni Ho cominciato a 13 Parli di Parli di alcune cose Come se Ce ne avessi Che poi è vero Che c'è tantissima esperienza Quindi ti dico Tu ti senti già Non so Tipo Arrivato Dal tuo punto di vista Lavorativo O ti senti già vecchio Per alcune cose Ho sentito anche altre volte Che parlavi Appunto Sicuramente mi sento vecchio Poi ne parliamo del podcast Così Mi sento vecchio Alcune cose dei rapper No Hai detto rapper più giovani Ste cose qua No Beh sì perché Lo sai cosa Io comunque Già a 16 anni Lavoravo appunto Entro un iron Etichetta discografica E stavo a contatto Con gente di 35-40 anni E solitamente Quando arrivava la domanda Quanti anni c'hai Te 16 La gente ti strappava i capelli Non ci credeva Comunque Da quando c'ho 16 anni Ne so passati 7 E ti devo dire Che è cambiata molto La situazione Non mi sento più Il pischello giovane Ma anche perché I rapper che uscivano Quando io avevo 16 anni Magari ce ne erano 18 I rapper che escono Nuovi Adesso io ce ne ho 23 Magari ce ne hanno 16 Quindi Semplicemente per questo Dico i più giovani Perché Veramente Chi fa successo adesso Sono più piccoli di me Nell'ambito musicale Certo Invece quanto costa Un video con te Cioè quanto chiedi De parcella Se si può dire Bah dipende Dipende anche là Perché un conto Poi è quanto prendo io Un conto è il budget Del video Ok Perché È ovvio ti posso dire Magari un video Sono 800 euro Poi tu mi dici Eh voglio l'elicottero Caccia i soldi Eh beh certo Però sì Solitamente Quello che fa tutto Quello che io non voglio fare In base Solitamente siamo Su un minimo Di 7-800 euro Per un video Però official Quando ci sono Poi official È un termine mio Però quando ci sono Magari freestyle Il video Da un minuto Così Chiaro un po' di meno Molto più semplice Non è il videoclip Dove devi mettere Le macchine Non è un videoclip Sì dove ti devi fare Magari 2-3 giorni Girato Stare là E tutto quanto Però poi dipende Tanto anche dalle richieste Di base Io cerco sempre Di alzare un po' Perché voglio andare A spendere su attrezzature Comunque io sono Nato come nerd Cioè quando Ho iniziato a fare Io sto lavoro Non c'è La tecnologia Era veramente Sembrava L'età della pietra Quindi dovevi per forza Essere un nerd Del cazzo Sapere le specifiche Di ogni cosa Solo per usare Premiere Secondo me devi essere Un nerd Ma no Premiere è mega tranquillo Però Tipo Ah i miei tempi È veramente brutto È veramente brutto Di stare da 23 anni Però quando ero piccolo Io Mi sento vecchio io A dirlo Che Tanti qua Ce n'abbiamo 27-28 Eh lo so Però Non si può dire I miei tempi a 23 anni Da 28 anni Manco Ma devi metterti nell'ottica Appunto Sempre in ambito video Quando c'avevo 13 anni Per avere Sto cazzo di 4k Che quando c'avevo 13 anni Io Manco se sapeva Che cazzo fosse Dovevi spendere 20-30-40 mila euro Per una camera Che poteva far 4k Ma apri Amazon Con 500 euro Ce l'hai fatto L'iPhone Ma fare 4k Capito Quindi tu rompi le palle Sull'avere l'attrezzatura Sì C'ho ancora il pallino da nerd Di voler avere Quelle determinate cose Che magari Non ho comprato io E quindi le vado a noleggiare Ok E poi di solito Rap e nerd Non vanno proprio insieme Come sbaglio Oddio Ma in realtà Sono nati proprio L'opposto C'è quelli che sono Tutte e due Ormai C'è questa nuova Ma penso C'è pure Con i sordi Sì C'è mentre prima Era dalla strada Adesso Di base Ecco Ancora Poi facciamo il conto Mettiamo Con Slack Ci facciamo Metti i numeretti sotto Beh come di una volta Se giocavi a Pokemon Temenavano C'avevi 20 anni Adesso i rapper Se mettono le felpe Dei Pokemon Invece È vero È vero Invece Quanto è diverso Fare il videomaker Per un podcast Dipende Da che podcast Presumo Però è sicuramente Più semplice Di fare un videoclip Una volta che Imposti il lavoro I clienti In questo caso Luca e Edo Sono contenti Di come esce Lo fai È quasi tutto Cioè non devi quasi È quasi fare il compitino Io poi cerco sempre Di magari fare L'editing Un po' più pazzerello Degli altri Ci metto Là il filtro VHS Là la scritta Il logo Le cose Però è Molto tranquillo È solo una questione Di tempo Di metterti là Cinque ore Editare la puntata Mandarla Ad aspettare approvazione Perché poi per poterla Fatate la dirige Tutta Sì 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 Per forza Vorrei fare come fa Quello stronzo di Carmelo Che fa Campione Se sente Dieci secondi Una parte Dieci anni Una parte Mi manda l'audio Ma qua mancano Trenta minuti D'audio Sto sbagliando Sto scherzando Un saluto a Carmelo Grande Carmelo Tipo ad esempio Non hai idea Di fare anche Un film o qualcosa Oppure di No No Proprio Cioè a livello di scrittura Di cose del genere No Ho pensato a questo Perché ci sono Tanti Che iniziano a fare Videoclip musicali E poi Si buttano Nel mondo del cinema Io me ne so accorto Proprio verso I 18 19 anni Che potevo Anni orsono Anni orsono Potevo prendere Due strade Comunque arrivavo Un momento della mia carriera Dove ho detto Posso prendere due strade O vado Sul cinema E sulla televisione O se no Vado sulla musica Anche dal lato più Manageriale Comunicazione web Spot Sempre in quel mondo E quindi Dovo scegliere Tra queste due strade Che sono due cose Completamente diverse E visto che Già mi ero fatto Un po' di Di lavori In televisione Ho detto Chi cazzo Vese in culo È una merda Ho detto Però mio papà Perché mi è venuto in mente Ne parlavamo anche prima Agli YouNuts Esatto Sì sì Loro poi sono passati A fare film Sì sì YouNuts poi Anzi Per me loro Sono stati forse Uno dei Punti più Importanti Perché Non potendo studiare Non c'erano scuole All'epoca Cose così Ti potevi vedere I video E i video su cui Puntualmente finivi Erano i video YouNuts Video di Cristo E scusa Veramente Sono geniali Perché poi Io ho fatto Un piccolo lavoro Con loro E Hanno proprio Idee Che te le vedi Sulla scrittura Una delle cose Non mi sono mai Riusciva a spiegare È come Riuscivano ad avere Una qualità Della Madonna Per i tempi Che poi È una cosa Di Panasonic Che loro sono stati Primi a usare Determinate camere Ma avere poi Delle idee Di scrittura Proprio del video Pazzesche Ma a livello di camera Invece che si Cioè Se dici ok Voglio usare La cosa più fea Che si usa Molto la Red Red o Alexa Però Dipende sempre La camera Non è una cosa Che dici più costa Meglio è Cioè Se dovessi Piare la Red Capito Tipo Per far il podcast La Red dopo Cinque minuti Surriscalda C'ha bisogno di tre persone Che la gestiscano È un macello Però stanno tutti in fissa Con sta Red Perché è una cosa Stronzia È la cosa Che appena inizi A fare i video Vedi Ah la camera Costa 40 mila euro Ci hanno fatto i film Io ci ho girato Perché quel lavoro Ho stato dovuto Annappiare La Red È un accollo La Red È un accollo infinito Poi io preferisco Anche Alexa Alla Red Secondo me La Red Sta molto sotto All'Harry Però è un accollo Tipo dipende Dal video che devi fare Se devi fare un video Dove sul set Siete in tre Non puoi usare la Red Ti ammazzi Ma scusa Ma hai parlato Non bene Della televisione Cioè hai scelto Più girare clip musicali E quant'altro Cos'è che non ti piace Del mondo televisivo Qual è la problematica? Mi è piaciuto il metodo di lavoro Dietro le quinte Cioè non è che non mi piace Il prodotto televisivo Non mi piace neanche Il prodotto televisivo Però qual è la differenza Tra La differenza Guarda Detto proprio chiaramente Che quando io feci Questa serie tv Due mesi di girato Tre volte mi sono svegliato Vomitato sangue Ma letteralmente Cioè mi sono svegliato Vomitato sangue Perché ci facevano fare Degli orari Proprio da denuncia Dovevamo magari iniziare alle otto Finire alle sette Iniziamo alle sei Finivamo a volte all'una E così tutti i giorni Per due mesi e mezzo La facevi operatore La facevo Dovevo essere assistente operatore Invece mi facciano fare Sia operatore Che assistente operatore Poi mi hanno scritto Nei titoli di coda Come aiuto regia Hanno pure sbagliato A scrivere il mio nome Cioè è proprio Una roba Ah ok Il nome è un problema Però io non le sia Senza senza E invece Come nasce la collaborazione Con Kashmir Guarda io sempre Appunto quando stavo in Uniro Io lavoravo molto Con Giorgio Mostro Il fratello di Edoardo Anni fa Serviva Edoardo Per uno spettacolo Che fece Al Brancaccio Un videomaker Chiamò Chiamò Giorgio E gli dice Senti ma c'è qualcuno A mandarmi Gli ha dato il numero mio Poi da là Abbiamo fatto quel video Gli è piaciuto Ci siamo risentiti Per un'altra cosa Che presentava Edoardo Ma c'erano Erano quattro serate Di quattro comici Di cui Tra cui Luca Ravenna Lundini Francesco De Carlo E Saverio Raimondo Vabbè tutta stand up Non mi vorrei sbagliato Lo presentava Edo Ho fatto questo tipo After video A tutte queste quattro serate Gli è piaciuto pure quello E poi Un giorno Lui e Luca Hanno deciso Di fare un podcast E mi ha proprio chiamato Mi ha detto Senti voglio fare un podcast Con Luca Non so E ti ricordi Eh sì Ma che è un podcast Dove si va Dove si pubblica Che bisogna fare E poi da là È nato Casper Sì sì Ma tra l'altro Te non hai mai fatto niente Quindi si è dovuto Documentare Sì vabbè È stato abbastanza semplice In realtà Di base Ancora Scusate Questo è il gin tonico Per voi Ancora non è da rilasciare Comunque sì Avevo visto l'impostazione Erano due camere Due luci decenti E si gira molto Tranquillamente Lo richiede Un grande sforzo Tecnico E com'è Lavorare con loro Vabbè Un taglio Sono esattamente Come li vedi nel podcast Se non Meglio Cioè può essere Un po' censurati Fanno pure più ride Magari Fuori dal podcast Perché Anche la cazzata Che tu dici Stiamo per strada Passa una Ti fanno una battuta Sulla Sulla signora Capitanziana E ti fa ride E com'è stato Tutto il tour Estivo È stato un tour De force È stato veramente Perché io Come Carmelo Mi ubriacavo Tutte le sere Ma veramente In modo pesante Una volta Sono svenuto Dentro un furgone Però Perché là Come funzionava In quanto avete fatto E che Quanti dati Noi abbiamo fatto 17 date Suddivise In poi Quello che era Realisticamente Un mese Solo che abbiamo fatto Metà mese di giugno E metà Di agosto Settembre Non mi ricordo bene Ah era Spaccato Sì era Spaccato Ok Non tutto Insieme Non era tutto Di fila Perché c'è Edoardo Sempre che salutiamo Che si deve fare Almeno il suo mese In Grecia Ah due anni in vacanza E quindi ha dovuto Fa' sta cosa Ho capito Ho capito Deve staccare C'ha le paranoie Deve staccare Deve staccare Ma io lo Concello Ho sempre Preso per il culo Per sta cosa Invece ultimamente Ha fatto Che lavora un botto Ho detto Ok capisco Che te devi far Mese in Grecia E Invece questo lavoro È un lavoro Che ti fa viaggio a tanto Cioè per esempio Ti capita il rapper Che ti dice Senti dobbiamo fare Il videoclip a Dubai Che cazzo ne so Guarda dipende Cioè Non è un Un lavoro Di base Eh Intanto faremo Secondo me La gara Tra invece E di base Vediamo chi vince Dipende sempre Da C'è poi una grega simpatica Se poi inventiamo il gioco Ma sì Dipende da Che tipo di videomaker Sei te Cioè se sei uno Che sei un operatore E basta Che appunto Lavora in televisione Poi viaggia Fino a una certa Se lavori Che Gli studios Diciamo Gli studi a Cinecittà Non è che viaggi troppo Poi ci stanno quelli Che invece Fanno di tutto Solo per viaggiare Quelli che vanno Fuori dall'Italia Fuori dall'Europa Solo per Fanno il suo lavoro Solo per viaggiare Io Sono un po' un mix Cioè Cerco di stare in Italia Sono andato Ogni tanto Fuori dall'Italia Però Viaggiare comunque È una cosa che mi saccolla Pure a me Di base sta a Roma Di base Hai detto che Quello che ti ha fatto Più scopà Chi era Dei video Beh ultimo Ultimo E invece Kashmir Ti ha fatto scopà Kashmir Sì ma Mi ha creato Più drammi Che altri E comunque È mega brutto Regà Quando ti presenti davanti È una pischella Che sa tutto di te Sa che sei un coglione Perché poi su Kashmir Non è che faccio Questi discorsi Faccio solo discorsi Che fanno la voce Così tipo Però non ce l'hai così Diversissimi Non lo so Ma davvero Allora è una para Ma non è che Forse me la fa Carmelo È una delle sue Magagne Contro di me Potrebbe essere Però sicuramente È strano C'è stato a pensare Prima mentre venivano Che io e te Non ci siamo mai visti Fondamentalmente Non ci siamo mai visti Prima di oggi Però è strano Perché io ti ho sentito Parla Insieme poi a Ferrario E Ravenna Per tantissime ore Negli ultimi Due anni Quindi è come se Io sapessi Tutto di te Quindi siamo visti Quando siamo incontrati Io sapevo che Te piace Sta cosa del rap E cadene Piuttosto che altre stronzate Così Però io per te Invece dei contrari Sono un perfetto sconosciuto Quindi quando ti incontrano È strano È strano sta cosa È questo il problema Come la vivi Malissimo Veramente male Cioè prima di uscire Con una che magari Mi conosce da Kashmir Dico Cazzo magari Questa è una serial killer È una stalker È una stalker È vero È vero È vero Assolutamente Spero che non mi faranno mai La John Lennonata Però Ma infatti Te può fare pure piacere Ogni tanto Comunque Sì No vabbè Ma quando mi fermano In generale Mi fa super piacere Anzi Ho sviluppato proprio una cosa Perché mi fa strano Che uno arriva Oh grande Tahir Io Comunque la mano Gliela stringo Se gli va Ci scambio due parole Perché Non è che so Appunto John Lennon Che da In fondo alla via Urli Grande Tahir E Invece ti volevo chiedere Ma adesso Ti hai tipo Un obiettivo Un sogno Magari pure Grande in testa Cioè tipo Che ne so Fa il video A Kanye West Cioè una cosa Che però sia concreta Guarda Queste erano cose Che c'avevo molto Tipo a 15-16 anni Cioè L'obiettivo Astratto Vabbè che però L'obiettivo Te fa arrivare pure Magari Purtroppo io ora Ti dà la forza Vivo solo di obiettivi materiali Però Ok Cioè voglio fare 5.000 euro Nel minor tempo possibile Cazzo Però voglio dire Cioè Se tu pensi Ok Ciò Quanto mi hai detto 16 anni 15 anni Voglio arrivare a fare quello Ti sei fatto più il culo Magari dei tuoi cotane Assolutamente Ti sei fatto quell'oretta in più No no Assolutamente Questo E quindi può solo che aiutare L'obiettivo è fondamentale Se non c'è un obiettivo Che cazzo lo stai a fa' Cioè perché lo stai a fa' Se lo fai E il problema è che Vedi tanti Ma veramente tanti Ragazzi Fanno il videomaker Rap Poi dei videoclip Perché vorrebbero Fai rapper Ah ok Vorrebbero fai rapper Allora fanno Fanno il videomaker Cioè li vedi Che poi si fanno Le foto così Le cose così Non capendo che i ruoli Sono diversi Cioè a me è una roba Che poi ha tirato fuori Cashmere Però io sono sempre Invece stato uno Che vuole stare dietro Alla camera Non si vuole far vedere Eccetera Invece vedi tanti Che noleggiano la Ferrari Per fare il videoclip E poi ci si fanno La foto dentro Cioè so Io li chiamo rapper Mancati Eh sì È proprio così È proprio così E invece la A proposito La passione dei collane Come nasce La passione delle collane È una cosa Che comunque viene Dall'hip hop Però più una cosa americana Cioè in America C'è proprio la cultura Del gioiello Ma com'è il discorso È tipo Se io ero povero Allora Per i rapper dico Se io ero povero Allora appena ce l'ho fatta Devo comprarmi tutte ste robe Per dimostrare Ce l'ho fatta Non è che è per dimostrare È come Di la villa armare Cioè Ho fatto i sordi Allora Me levo lo sfizio Della collana Ok Non è una roba di status Cioè dipende Dipende sempre da Da chi sei Però ovvio che Se fai 500 mila dollari E la prima cosa che fai È spenderne 400 mila Per una collana Sei un coglione È certo E qual è la collana più Ciotta che c'hai Quanto ci hai speso La collana Eh regà Non lo posso veramente dire Vabbè lo bippiamo Bippi tutto Ok lo bippiamo la cifra Per un ciondolo Porca puttana Quindi Ammazza Hai detto Cazzo ho fatto davvero i sordi Sì È stata una spesa È stata una spesa mega stupida Poi in realtà Perché Vabbè però Poi vado in vacanza ostia Eh no E invece è qua che casca l'asino Perché Perché poi va in vacanza ostia Invece No È che la collana fatta su misura Ha un costo Molto maggiorato Perché c'è tutta la manifattura Dietro Che costa molto di più Però il materiale comunque C'è se so Diamanti Oro Eh ma dipende Cioè se compri un tennis Che è la collana classica I braccialetti pure Classici Solo diamanti Paghi pochissimo di manifattura E comunque neanche la perdi Se te fai una collana Con scritto Su misura Sto cazzo Valla rivenne poi Eh beh certo Cioè la devi squagliare Pure se te scrivi da IR Con i diamanti Eh capito La devi comunque squagliare A volte vi spingi Almeno sarà collana De merda Però di da IR Però di da IR E quindi Varrà comunque Bene bene Direi che ci siamo Abbiamo parlato Un po' di Di tutto Sì sì Io di solito Noi finiamo Chiedendoti no Dopo tutti questi anni Perché comunque Adesso sono dieci anni Che lavori Sì Eh Quali sono le cose Che secondo te Sono fondamentali Che un ragazzo Che sta iniziando Il tuo lavoro Dovrebbe sapere Cosa consiglieresti A qualcuno Che vuole intraprendere Questa carriera Anche Allora prima cosa Abbandonate Proprio ogni speranza Di vivere Ogni speranza Di vita Abbiamo un bel messaggio Motivazionale Ci sarà comunque Il mese Dove Non dormirai mai La notte Dovrai girare Girare Montare Girare Devi farlo Perché se non lo fai Arriva uno Più bravo di te Che lo fa E ti incula Quindi disposizione Al sacrificio Sempre Dove In quale Aspetto della vita Non ci sta questa cosa Cioè alla fine Vale un po' per tutto Vabbè se c'hai Il posto La dipendente Che fai il compilino Ovviamente Però nel senso Ciao poste italiane Però credo che Comunque se tu hai L'ambizione Di voler Riuscire In quello che fai Anche se fai Il dipendente Del lavoro D'ufficio E tutto Credo che comunque Questa debba essere La mentalità Ok Eh ma non ce l'hanno In tanti Cioè prendo per esempio Anche il mondo del rap Dovevo girare Questo videoclip Determinato Che era un lunedì E l'artista Mi ha detto Dopo che già l'avevamo spostato Era urgente Comunque da fare L'artista Mi fa No lunedì Non posso E gli fanno Perché non puoi Eh c'ho il calcetto Vado Non ci credo Il calcetto pure è importante Per carità Per carità Di Dio Però Questo mi fa pensare Che metti un po' Da parte Cioè a un certo punto La passione Riesci a mantenerla Oppure la devi mettere Anche un po' Da parte Ti deve piacere Io o lui Così? Ok 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 Dico Ti deve piacere Perché è una vita Veramente che Ti ammazza Comunque Non Devi fare a volte Delle trasferte Io appunto Con Matteo Mi sono fatto Quest'anno Già tre volte In 24 ore Anche meno Roma Milano In macchina Arrivi Giri E ritorni a Roma Cioè mi sono fatto Magari uscivo Da casa Alle 4 del mattino Ritornavo Alle 3 di notte Il giorno dopo E Matteo Hai vissuto Ti permette La stanza Perché ti hai ripreso La caterina Con la nonna Con la nonna Niente stanza Però ti hai visto Che questo lavoro Ti ha comportato Anche poi Tipo il Rimetterci Delle relazioni Paco 2 Io Lo scopo da tua È tremendo È veramente tremendo Ma ti faccio un esempio Cioè io Dovevo uscire Per ditte Con una A cena Stasettimana Ha rinunciato per noi Cioè Raga Lunedì Oggi sto qua Lunedì sera Sto qua Domani Giriamo Dalle 9 il mattino Fino a luna Di notte Mercoledì Parto Vado A Milano Giovedì Ritorno E tutta la notte Mi devo montare la puntata Venerdì Esce la puntata E poi c'ho Tutta una riunione Che sarà lunghissima Per un altro progetto Domenica pure Ho un altro lavoro Sabato pure Devo stare Al centro L'auto a tarire Che è un punto Che non ha scopato Ma non te ne piace scopare Non te ne piace scopare Ormai non si fa più È l'idea A 23 anni Ormai non si scopa più Quando te ne piace scopare A 14 15 magari Ma a 14 Già a 15 Basta E invece Scusami L'ultimissima cosa Ti ve lo chiedi L'ultimissimo invece L'ultimissimo invece Diciamolo di base Tu prima hai detto Per esempio Che una cosa Che hai imparato È un errore Che avevi fatto Mi pare O che comunque Adesso hai capito È che Quando lavori Per certe produzioni Se fai una cazzata La confessi subito Un'altra cosa Del genere Che hai imparato Sulla tua pelle C'è una cosa Che dici Ok Quella cosa All'inizio Non la sapevo Sbagliando Ho capito Che Mostra cosa La faccio sempre Questa è una domanda Difficile Stiamo usando il tempo Di mensaggio Non c'ho idea Non c'ho veramente idea Perché Pure a livello di camere Di scelte Sono piccoli consigli Da dare a chi Proprio vuole fare questo Oltre a Oh te rovine la vita Esatto Da voi è una speranza A questi mischelli Ma guarda Ti ripeto Secondo me Le pubbliche relazioni No Quello è fondamentale Cioè Noi mostro A parlare De camere Si set Ragazzi Sono tutte cazzate Sto lavoro Se fa Nelle discoteche Amico Ti porta In discoteca C'è al tavolo E c'è sta Rapper X Oh ma tu sei quello Hai fatto quello Dai fammi una cosa insieme Cioè Le pubbliche relazioni Sono la cosa principale Di sto lavoro Come Dissero Anni Pure in mantenerle Perché poi magari Conosci Te le perdi Invece quella chiamata Ogni tanto Devi sempre Comunque Stare in buoni rapporti Con tutti Non devi essere uno stronzo Però le pubbliche relazioni Sono fondamentali Ma anche nel cinema Si è sempre detto Il cinema si fa Nei salotti Sì sì Quello Vero Però Errori sui set Cose così Anzi direi Fateli Fateli Perché se poi ti accorgi È un errore L'importante Come dicevi prima Esatto L'importante sarebbe farlo Su un set del cazzo Certo Cioè lo fai Su una produzione grossa Rischi che te fai Una nomina brutta Esatto Però se Diciamo il consiglio Che do solitamente Ai ragazzi Che vogliono fare Sta roba È girare tanto Ok Girare tanto Sei ormai un veterano Un guru Possiamo dire Un anziano Un anziano Di questo No No visto che Stiamo facendo questo podcast Noi la prima stagione Prime interviste Un consiglio A noi giovani Di questo lavoro Di Vigaccio Una bella scritta a led Io lo so Una bella scritta a led Sto schermino Guarda come l'hai guardato male Buttiamo sto schermino Una bella scritta Là sopra Perfetto Stavamo a pizzare soldi Per le collane Vabbè che pure Una bella collana Dai la facciamo una collana Almeno due Ormai stavo i due Con il logo Dai Grazie Dair Grazie per essere venuto Ci vediamo alla prossima puntata di Vigaccio Ciao 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 Ciao